Ciao mondo! Oggi sono in partenza per andare a Parma e io e la mia famiglia andiamo a mangiare in un ristorante tipico. Oggi c'è una splendida giornata, una luce bellissima. Questo è il mio look, un make-up molto molto leggero e indosso sempre il mio nuovo cerchietto. Che è bellissimo, veramente. Ho ordinato questi tortelli di patate con il famigiano reggiano. Adesso butto questo tappo di sughero nel pozzo ed esprimo un desiderio. Fatto! Io sono tornata a casa, abbiamo passato una bella giornata facendo una bella gita fuori porta. Mettete tantissimi cuoricini e vi do un saluto. Mettete tantissimi cuoricini e vi do un saluto. Mettete tantissimi cuoricini e vi do un saluto.